musica 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 powerlash streaming musica no 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 lo registro questo raga è tempo di accogliere munizioni dato ce lo senti ragazzo scarico tutto addosso ti avvicino un po raga aspettate re con ora che li facciamo la va bene perché prendiamo le munizioni ma vabbè carino l'ultimo ora l'ultimo e possiamo andare sento muni prendetelo su un po come mi riesce a calare non mi metto il giro a favore di dare a favore di dare è stata girata tirato da datemi una mano a strada sulla bolla lì si distrutta contava e spacchiamola allora 15 14 13 15 4 stato già ok parlando io e cosi non vi preoccupare via 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 non è stato arrestato ha detto no ma se ne ho sparato il critico eh dimmi dimmi non vi preoccupate quella lì dove che si sparano ora quale scusa la rispara quella ah ok questa qui io ti sparavo un po di colpi però poi mi vengono va bene raga ma non siamo riusciti a farne tre perché non ho capito eh perché ci siamo sbagliati non ti preoccupare ora lo facciamo però non sapevo che andavamo fuori ma sta già e cagati guardi pure andando fuori aspetta rai guardi mi metto un anno cioè forse su eroico se mi mettevano che andavano fuori ultimo push andiamo avanti io sono pieno di ammo per farlo ma io no sciottiamoli sciottiamoli apriamo raga senti che mi sta a sparare il boss e power metti dietro una roccia no a te dico questi cazzo mi metto dietro una roccia la lei aspetta la lei aspetta devi girare raga vai girato vai è girato salta saltella ah non la vedo aspetta aspetta un secondo ok fermi fermi aspetta vai 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 si vabbè ricordo sempre gli schiavi giusto per sicurezza le chiavi a fare le chiavi faccio io sto caricando 5,4,3,2,1 ho fatto 4,3,2,1 mia, mia, mia ok ora faccio gli schiavi devi romperla devi rompere la roca allora voglio schiavi si avvicina no non ce l'ho più i colpi non ce l'ho più i colpi ma vabbè va bene così vabbè va bene così vabbè va bene così vieni da una mano mumili da una cazzola più veloce però un po' di più è un po' di più è un po' di più ma devo anche schifare non è facilissimo ehm non è proprio ma ma non gli passerà col cecchino ma che pesi mi fiai 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 lancia raggi si che c'è ma mi fia giù a mezzo di lui il discarico un caricatore di furo per il caso tre, quattro, tonti diventierà e va giù vedete che mette in cima ragazzi ora dai raga vami da che scende infatti per il momento sto scendendo più di prima però col tempo no no gli devo fare tre separate sapete che io ho il problema sono gli schiavi se non fossi me gli schiavi io ce la farei fai molti più danni vai avanti Comunque ci sono ancora gli accogli, raga No, io ho ammazzato il tuo Oh, il vuole che è cazzo da arrivare No, noi abbiamo un'altra belle che faccia No, ma pure noi l'abbiamo già fatto Raga, fatelo dire, fatelo dire Volendo io potresti sparare pure del qua Non è il mio, ragazzi, i boni Non è il mio, spara qua Sparagli qua, sparagli, sparagli Sparagli Cazzo Vuoi prenderlo tu, l'aggro No, ma sei girato verso il moon Sparagli tu, l'aggro, cazzo No, no, il primo è una teoria contro io No, è meglio se lo prende lui Vabbè, vabbè Non so ancora arrivati gli schiari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Che fai? Che fai? Che fai? Che fai? Che fai? Boh, che fai così, dai No, 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 fermo, fermo, fermo Fermo! 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 3 carlo perché rega ce l'ho io ce l'ho io hai il vostro ai vecchio di un miliardo schiavi schiavi cazzo non è fatto il pezzo porca troia moon sei il king cazzo anche per vicino a fateli avvicinare ecco la stavolta che già comunque raga starmo legati io ho fatto la provata mi sono girato sono andato dallo schiavo ragazzi raga approvata a di a dici dove non stiamo quattro orando come mokai c'è come uguale quattro anni ma quattro anni ora che stava girando il culo mentre stia vabbè comunque sia famole quante sono numero sti cazzo ma se non ce la faccio lasciamo stare ma se è girato una persona spalla di non va bene così non va bene così vedi tutti i filini no ce l'ho io vai vai ce l'ho io ok buttiamo giusta ragazzo la palla da merda non ci riesce si è aperto andiamo giù vai ma prendo una pallina di merda ok ce lo stiamo sotto ce lo stiamo io ok vattene come sai allora io va 15 13 12 faccio io la final dopo eh 10 9 8 schiavi 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 scomparsi gli altri è scomparsa qua la bolla fatta le vanno distrutta troppo presto non sono gli schiavi esplosivi rega un eminente ma facciamo ce la facciamo ce la facciamo ce la venite dentro venite dentro io non porto questo cazzo che mi ha fatto la giusta sorgere una bolla che è una bomba istrutta faccio più danno fuori 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 lo sguardo è stato arrestato fuori un'altra run ragazzi ce la facciamo ce la facciamo veloci la dobbiamo fare veloci lo sponano regalo veloci butta questo punto io sto buttando questo no merda fatelo fatelo vado a sparare dietro ho chiedo io regalo vado all'altra parte sbrigatemi di raga l'ultimo secondi è mamma mia mondo sei il mio cazzo di eroe porco due per il mestiere che fa per me è distruggire le palle e schivare palline grande mondo porca troia raga sto svorando raga no